se dovessi convincere una ragazza giovane a farlo intanto per essere molto concreti è una cosa che fa molto bene al portfolio personale guardando linkedin dove tutti scrivono si mi interessa molto cosa vuoi cosa cosa vorresti impegnati nelle cause sociali nel volontariato è però bisogna poi alla fine fare qualcosa no cioè sperimentare provare magari piace